Partiamo dall'esordio, esordio in maglia granata, cosa ne pensi del pubblico salernitano? Sicuramente un pubblico fantastico, già comunque nero a conoscenza di questo grande calore che comunque mettono in tutte le partite. Penso che oggi abbiamo lavorato questo tifo e è quello che dovremo metterci da qui alla fine per comunque rendere al meglio. Ci sono due moduli, diversi moduli che la salernitana allenatore sta provando. Conoscendo meglio Luca Abittante, qual è la tua posizione e dove ti troveri meglio? No, penso che non ci sia differenza nei due moduli, comunque dobbiamo essere bravi a interpretare entrambi i moduli in base a come si svolgono le partite. Abbiamo visto che oggi siamo partiti con un modulo, poi la partita in corso e il risultato era in una maniera e ci siamo messi con l'altro modulo. Penso che comunque la forza di una squadra sia che anche nel cambio degli uomini e comunque del modulo rimanga sempre questo stesso rendimento e questo è l'importante. Adesso vi aspetta una trasferta difficile in casa del Verona, come ci si prepara? Soprattutto sfruttando anche la vittoria odierna. No, sì, sicuramente si lavora come facciamo tutte le settimane. Bisogna andare lì tranquilli, con la massima serenità, di poter far male e essere tranquilli con una classifica comunque che inizia ad essere molto interessante.